Il Pechak Silat è una delle culture guerriere più ricche nel panorama marziale mondiale. A seconda del territorio di origine prendono forme sia marziali che artistiche diverse. Il Pechak Silat è una delle culture guerriere più ricche nel panorama marziale mondiale. Il Pechak Silat è una delle culture guerriere più ricche nel panorama marziale mondiale. Il Pechak Silat è una delle culture guerriere più ricche. Il Pechak Silat è una delle culture guerriere più ricche. Il Pechak Silat è una delle culture guerriere più ricche.